Per la seconda volta in pochi giorni è stato registrato un terremoto di bassa intensità con epicentro nel cono del Vesuvio. L'Ingv rassicura nessun segnale di risveglio del vulcano, ma i piani di emergenza ed evacuazione non sono mai stati attuati. L'inviato Vittorio Romano. Non è un po' troppo vicino al cadere, si sente sicuro a vivere qui? E perché? Non è successo mai niente. Ho paura degli uomini, non del cratere, non del Vesuvio. La bocca del vulcano più pericoloso del mondo è a 500 metri dalle loro case, ma chi è cresciuto tra queste colline forgiate dalla lava non riesce proprio ad aver paura del Vesuvio. Da quanti anni vivete qui? 50 anni. Paura del cratere? Mai, mai, noi siamo proprio in simbiosia. A giovedì uno sciame di bassa intensità scuote questi paesini ai lati del cratere. Normale attività sismica, secondo gli esperti dell'osservatorio vesuviano. Non siete un po' troppo vicini al cratere? Sì, è anche lei. Arrivederci. In caso di eruzione, una nube di gas e cenere travolgerebbe i 25 comuni della zona rossa. Queste case verrebbero spazzate via in due minuti, secondo le stime dei geologi, ma chi ha deciso di costruirle qui 50 anni fa è stata fatta una statua e intitolata una via. Tutta quest'area, in caso di eruzione e di passaggio di nubi ardenti, sarebbe devastata. Quindi qui non dovrebbero esserci case e soprattutto prima della eruzione la popolazione residente dovrebbe essere evacuata. Nella zona rossa l'evacuazione è l'unica possibilità di salvezza per 700.000 persone, secondo la protezione civile. Eppure si continua a costruire. Solo a Dercolano sono state firmate 100 ordinanza di abbattimento di case abusive, 5.000 le richieste di condono avanzate. I piani di evacuazione approvati dai comuni prevedono aree di attese e vie di fuga, ma in pochi qui saprebbero cosa fare qualora il vulcano si svegliasse davvero. In caso di emergenza lei saprebbe dove andare? No, assolutamente. In caso di emergenza lei saprebbe dove andare?